Eccomi di nuovo qui a fare un video sugli addominali, ebbene sì, perché ho preso spunto dal commento lasciatemi sotto a un video in cui mi si chiedeva quando sarei tornata a fare una nuova challenge sugli addominali e eccomi qua. Ho praticamente approfittato anche di un video che è uscito pochi giorni fa, che mi è piaciuto tantissimo e che avrei voluto comunque fare, provare anche da me insomma, però appunto lo faccio con voi in questo video. È questo allenamento che c'è questa routine, non l'ho ancora mai provata, quindi proprio sarà questa la prima volta e potrebbe essere anche un epic fail, perché dura sì 8 minuti, quindi poco, ma è tosta, ed è praticamente un video che ho visto sul canale di una ragazza che credo sia una modella, è Pamela Raif, comunque molto famosa, e pubblica molto spesso questi allenamenti, anche non lunghissimi, però semplici, quindi con esercizi veramente semplici, però tosti e secondo me molto efficaci, e ho visto questa specie di challenge che ha lanciato il Jason Deulo che fa il video insieme a lei, comunque poi ve lo metto qui in un riguadrino piccolo, così potete vedere insomma quello che fanno loro e quello che faccio io, e quindi niente, ovviamente io sottofondo non metterò la musica del video, perché la musica del video è una canzone di Jason Deulo e io per motivi di copyright non posso metterla, perché non ho l'autorizzazione ad utilizzarla, quindi ci metterò una musica delle mie, e quindi anche se non andrò a tempo con la musica, pace. e quindi niente, iniziamo questi 8 minuti veramente belli intensi, quindi un like per il coraggio, e iscrivetevi al canale ovviamente se non siete iscritti, e se vi piacciono i miei video, e seguitevi anche sui social, soprattutto su Instagram, e niente, ho trovato tutti i link sotto, e io direi di smettere di parlare e di iniziare a sudare. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!